Donisiani eccoci qua nel nuovo episodio del nascondino su Minecraft Forza iniziamo subito Allora voi ragazzi adesso cosa andrete a fare andrete a nascondervi Va bene Forza show via Io intanto Sì 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 per primo sono io chiaramente perché ovviamente Ok guardate qua Donisiani invece cosa Allora praticamente qua è entrata una persona vi devo spiegare no perché anche voi potete entrare nel mondo di Lunis E ha iniziato a fare questa casa Per chi per chi vuole entrare comunque può entrare nel server discord e può mettere può dire io voglio entrare nel server di Donis E sta facendo questa casa qua Vabbè forse è un po' un po' una Vabbè lasciamo stare Lasciamo stare Poverino Scherzo Casa tua è bella se stai vedendo questo video E Scherzo Si scherzo ovviamente E quindi adesso vedremo un attimo come procede la situazione E soprattutto vedremo dove sono nascosti gli sciocchini Quindi Io sono nascosto benissimo Sono contento Sono contento gravi Eh come è che ti chiamano? Gravi? Gravi Ok forse ho qualche problema A parlare Si ok Dunisiano io ho dovuto fare un taglio perché praticamente a volte purtroppo la mia gola impazzisce Comunque ragazzi vi siete nascosti E può capitare a tutti Si 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 io sono nascosto benissimo Ok Cos'è successo? Cos'è successo? Ma questo è il bello della diretta Dunisiani Voi non dovete non dovete affatto sentirvi non dovete diciamo come dire indignarvi perché è normale quello che capita Anzi secondo me è bello È normalissimo È normalissimo a volte succede a tutti crashare No anche a voi penso che succede a crashare certo come una cosa brutta Non so cosa è successo mi dispiace Vabbè l'importante è che tu sei nascosta Allora Gabri io ti sto cercando sapido Adesso come al solito io prima di tutto andrò a vedere in questo passaggio segreto Vediamo un attimo se sei qua Sei qua? No Immagino sei di nuovo là No vero Gabri non sei qua No non sono lì Ok è vero era vero non sei qui Io vi ricordo che non si può minimamente per l'amore del santo patrono illirico Ho detto delle parole a caso che non so nemmeno cosa vogliono dire Senza offesa se qualcuno si è offeso non c'entra Gli illirici erano diciamo gli albanesi del tempo Per chi non lo sapesse Però di tanto tempo fa donisiani E' cultura questa E' storia no? Io non lo sapevo E infatti perché sei ignorante Scherzo Gabri scherzo sai che ti voglio bene Ma scusa dove siete nascosti? E poi non lo so Eeeh devi trovarci Esatto devi trovarci Mannaggia al trovare Mannaggia al trovare Dove sei tu? Mi sto perdendo la pazienza lo sapete questo? Sto per iniziare a fare slash tp No 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 Questo significa imbrogliare Noi non possiamo neanche farlo Ok e questo mi dispiace molto Gabri se non puoi farlo sarà un problema tuo Però parla bene Va bene parlo bene Ok perfetto questo sarà meglio E poi parla velocemente ma scandisci bene le parole Va bene parlo velocemente Oh bravo bravo vedi porca miseria Tu sei un mitico Parlo velocemente Sì un mitice Vedi vedi così bravo 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 No è mitico Grazie grazie E vedi vedi porca miseria No ragazzi cioè io mi sto emozionando per come sta diventando bravo Gabri a parlare Cioè veramente Eh vedi Ma io non sto scherzando sono serio Ma io sono serio eh Cioè veramente Gabri sta imparando un sacco a parlare Ma poi si sa un po' che c'entra anche la mano d'opera di Dunis dopo tutto Perché lui è molto bravo a modificare Oh però dove caspita siete perché mi sto rompendo le palle Eh scusate Eh ma scusa ma io non vedo neanche il tuo nome Cioè non so dove sei onestamente Devo andare in casa di Chiara e d'Angelo Per forza siete là tutti sicuramente Vero? No No vero Fede? No 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 per niente giuro No Ok quindi se vengo in casa di Angelo e Chiara Beh diciamo che tu Non mi troverai Non ti troverò Ok Ah quindi qua ho visto un nome strano che non eri tu vero? Dove sei? Allora io se ti vedo che scappi ti tartasso di sclero Boh non so di sclero Ma se io sono ferma ma cosa vuoi? Ma io per un attimo ho visto Allora mi perdonerà Angelo se faccio questa questa sacralitudine cosa che ho Cosa sto dicendo Però io qua ho visto qualcosa e sto rompendo tutto Ma No Vabbè niente ho sistemato ho sistemato Scusate Dove sei? Io ti Mamma mia io Ho visto qualcosa Ho visto qualcosa di nuovo Dove? Ma cosa che sto vedendo? Ma sono impazzita Ma cosa vedi? Ma vedi le allucinazioni Ma infatti No raga Non ne posso Cioè dove? Cioè io ho sto vedendo qualcosa davvero Oppure No non ne posso Dunisiani anche voi cercate Scrutate l'occhio Scrivetemi nei commenti anche se Scrutate l'occhio Sì Scrivetemi nei commenti se c'è qualcosa che non vedete Eh esatto Ovviamente non è che potete cambiare posto eh Anche perché ormai Ma no no Stiamo cambiando Sono 4-3 anni Sono molto ferma Ok Io sto cercando di vedere se ci sono strani passaggi segreti Ma dove caspita vi sei nascosti? In Burundi? Non lo so In Urbekistan Cioè Urbekistan In Sprungispe Ah Che bello questo posto Devo dire che Allora devo dire che Angelo e Chiara Hanno costruito proprio una bella Perché questa è la stanza dell'incantesimo loro È molto bella questa stanza devo dire Molto brava Io so che loro hanno fatto un passaggio segreto Però non posso dire niente Perché sennò Angela si arrabbia con me Ah un passaggio segreto Eh beh se poi lo metto su Youtube Ciao è la fine Eh esatto Eh ma solo Gabbro lo conosce a parte Angelo Ah e quindi se io vado Anche Chiara lo conosce Se io vado in modalità spectator Non lo vedo Giusto No lo vuoi fare Non citare no Ah vabbè ok Vabbè farò finta di niente No comunque seriamente mi sto in nervosa Dove caspita siete? Eh voi Ti posso dare un indizio Ok vai dammi Mi sei passato Ho trovato Gabri Ho trovato Gabri Ho trovato Gabri Mi ha trovato Era nella cosa di Halloween Vabbè diciamo che era abbastanza scontato Non ci ho pensato purtroppo Eh beh ero lì attaccato Eh infatti infatti Non c'era neanche la scorsa volta Questo posto qua è nuovo Ok Fede Quanto tempo fa ti sono passato vicino? Domanda Eh ma tipo un minuto fa più o meno Un minuto fa? Eh Quindi nemmeno tanto troppo tempo fa? Ah forse ho capito dove sei Però non vorrei dire Ma forse ho capito Duniziani Forse la fede roccola La Non so Ti dovrei dare un nome Si trova da queste parti nelle montagne Tu non sei in una casa giusto? Ehi Sì e no Ok però rispondi in domani mattina Perché sennò poi dopo i dunici Sì e no Sono metà anno ad ascoltare la risposta E poi dopo non va bene chiaramente Io mi annoierei molto Se vedessi un video così Dove le persone rispondono dopo tre anni Peccato che qua non c'è niente Sì e no Dice la Federica Ma io non la sto trovando Dov'è andata? Infatti si è nascosta troppo bene Secondo i miei gusti Questo è un peccato contro Duniz Secondo me sta barando Sta barando Può escire Gabi No no proprio no Sei discaisata Hai scavato col piccone? Ma no ma non è vero no No Ne dubito No no Io non imbroglio Ne dubito anch'io Ma chissà dove Allora Ma dove è andata? Dimmi un po' Dimmi un altro indizio Perché sennò qua non ti troviamo Quello che vedo ti sta allontanando Quindi era una porca No vabbè Dove sta sta qua? Allora dimmi quando mi avvicino Tipo adesso mi sto avvicinando Ok Non vedo il tuo Il tuo nome è sparito no? Ma Denis sei andato in casa mia a vedere? No E magari in casa mia È vero Non ci ho pensato E a questa cosa sagriga La prima Oh no Sta sorridendo in modo strano Può essere Non è vero Non è vero no Io non ci ho pensato Perché ho detto no dai Nessuno si nasconderà lì E invece era la più scontata Dimmi sei sopra Gabri Guarda no Sopra non c'è Ok ora per forza sotto Vero fede Vero che Non ci sono Non sono lì no Non sei lì No No Gabri Gabri hai capito Ci ha pure ingannato Con la sua risata Da strega Come osa Ma io non ho detto niente Sei tu che hai detto Che nessuno va nella prima casa Quindi non ci sono proprio È la risata da strega Ingannatrice Questa qua Gabri Come osa Stai attento Vediamo se è qui È nella stalla Ma io sto facendo vecchia Io sto facendo vecchia Mamma mia Non c'è Non c'è Allora Gabri Tu da ora in poi Cercherai con me Perché non è possibile Sì sì va bene va bene Cioè È un O in casa sua Uo è in casa sua Ma io l'ho controllato prima Ma forse non l'ho controllato bene Eh no Forse io so Eh no Però lì non ci può mettere Lì no Allora cosa sei Perché io so il posto dove Eh Parla bene Perché per un secondo Hai parlato di Non stai capito Niente Infatti No perché dicevano Eh Io so il posto dove Fede tiene i diamanti Però lì non ci sta È meglio È infatti A parte che staresti un po' stupida Perché ti Eh esatto Ti spoileresti tutti i diamanti Questa cosa Esatto No Beh sai che non so Allora è qua sopra Per forza Cioè da qualche parte Comunque c'è Fede tu stai sempre nel villaggio Gabri siamo stupidi C'è una nuova casa nel villaggio Non ce l'hanno pensato Dai Fede fai schifo Fai schifo dai Vero Non è che stai parlando Eh sì non sai vero Non sai O è sempre lì Dentro del cimitero qua Che poi è una casa Ma non è una casa Vuol dire che è una casa In costruzione per forza Sì E non ci ho pensato Dai qui Guardala Guardala Non mi uccidere Non mi uccidere Questo è un peccato contro Dunis Gabri Esatto Dobbiamo Dobbiamo Ammazzare No 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 Stai fermo Stai fermo La dobbiamo relegare Nella prigione Della sofferenza Dunisiana La prigione Della sofferenza Dunisiana Che è una prigione Ostrogotamente strana Esatto Dove ci sono le forze Più scure E malvagie Dell'universo E dove patirai Le pene Degli inferi Torturoni Perché capito Chi entrano Proprio come delle torture Vabbè Eh gli piace pure No vabbè Insomma Adesso Dunisiani Però toccherà A chi vuole fare Fra voi due Io 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 Ok tu Gabri Ok Sì 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 Ok perfetto Tu Fede Inizia già Tu A nasconderti Basta che Gabri Sto pensando Sto pensando Ok Però chissà Dove vi nascondete Mi raccomando Eh beh Dopotutto guardate Che è possibile Questa cosa Nascondersi In posti comunque Molto ostrogoti Molto oscuri Ostrogoti Eh in posti ostrogoti Ma poi I Dunisiani Non lo sanno Ma praticamente Ma vai in prigione Gabbro Vai in prigione Ma come Dentro la prigione No 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 Vabbè Ormai ci sono Ormai ci sono dentro Ok vabbè Comunque Fede Nasconditi Ditemi Per quanto siete pronti Ok Sì 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 Quando Io sono praticamente Già pronto Ho già trovato Un sacco di cose Quindi tranquilli Fede è pronta No Un secondo Un minuto Un minuto Allora Sì sì Allora fermi un attimo Perché qua non ci stiamo capendo Dovete parlare con me Eh scusa Le vostre sorelline Eh vero è vero è vero Eh lui mi ha chiesto a me Io ho risposto Scusi Eh mi spiace Non si può fare questa cosa Perché assolutamente Scusa Denis Da prigione ostrogota Questa Io ci sono anche già dentro Quindi Eh beh Mi dispiace molto Comunque Io direi Fede sei pronta Dimmi un po' No No Come Quanto ci vuole Mannaggia Federica Mannaggia Allora nel frammento Vi racconterò la storia Della penna magica Nel frammento Nel frammento Nel frammento Allora la storia Della penna magica Dunisiani Eh Dice che Ci fu una penna Milioni di anni fa Esatto milioni Addirittura quando non esisteva La razza umana Pensate voi Che strano Eh praticamente Questa penna Era relegata Che vuol dire Rinchiusa No Costretta dentro Dentro Un pozzo magico Questo pozzo In questo pozzo C'erano Le muse Che erano Strane Balene Grasse come Gabri No Voi sapete Ma Che però Avevano un potere magico Di trasformarsi in sirene Ah Eh sì Un sirene Veramente spettacolari È bellissimo Bellissime Quindi Insomma Bellissime No E praticamente Queste 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 muse qua Così che facevano Prendevano Questa penna E se la ficcavano Vabbè Lo siamo perdere Ma Insomma Io ho fatto Insomma vai Parti Gabri Finalmente Posso iniziare Oddio Sì puoi iniziare Tu tranquillo Sì sì Allora Gabri Gabri Vattene a fan Allora Gabri Hai rotto le palle Perché ogni volta Devi far finta Almeno Non rompere Adesso bagniamo Allora Fede No 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 Fede Adesso adesso decido io Adesso tu da ora in poi Sarai bannato dai video di Dunis No Perché sei noioso Sei sempre lì Ti trovato Ti trovato Allora vai Vai immediatamente Non ero pronto Vattene Vai a cercare Fede Per non dire qualcos'altro Ok Vado a cercarla Ma bene Ma io veramente Dunis animale Non è possibile Ma gli devo spiegare tutto Cioè io Prima di iniziare questi video Non è che devo dire sempre Oh mi raccomando Almeno fate finta No di non sapere Perché io non è che posso stare per mezz'ora A fare un cavolo Quindi adesso Adesso sapete cosa faccio Ok Va bene Va bene Perfetto Io sono uscito dal gioco Ora Ora Perfetto Sì sì ora Gabri tranquillo Cerca cerca Che io sono nel gioco Continua a cercare Quanto ci vuole che la trovo Non ne ho idea Tu cerca Tu cerca E tanto non capirai mai dove sono Non lo capirai mai Perché non puoi capire Ma dove sei te Dove è Fede Non ne ho idea Non ne ho idea Chiunque Allora Io comunque non mi troverai mai Io te lo dico Perché tanto Ma sei uscito Eh beh ma chi lo dice Ah Eh Da cosa sta facendo A parte parla bene Managgia Eh scusa scusa Fede l'ho trovata Cosa sta facendo No Dove l'hai trovata Era in casa di Angela e Chiara Ah che Aspetta Ma Fede non è Non è rishiftata Come non era rishiftata Eh silenzio Creature Mutatevi Ho creature Ho cercato di mutare Io il rumore brutto Che era successo lì Nella casa Ok Gabriele Adesso manca solo Manchi solo io Manco solo io Forza forza Trovami Dove sei Vai vai Sì 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 Vai cercami cercami Forza forza Quanto ci metto Eh non lo so Dipende Dipende da Da quello che fai tu Dipende da quello che fai tu Dopotutto Gabriele Chi sei Eh beh chissà dove sono E chissà dove non sono Beh vedete Unisiani Dopotutto Mi stava scappando Non posso trovarti Se sei uscito No ma chi ti dice che sono uscito Ah ho capito Sei in vanish Eh Sono Eh ma non posso Eh ma non posso vederti Se sei in vanish Non importa È proprio questo lo scopo brutto schifoso Eh Non devi Allora Non devi trovare ragionamenti Tu adesso mi cerchi Mi cerchi e mi trovi Ok Non mi importa Mi cerchi e basta Fai Ah Dunis dove sei Dove sei Ti devo cercare Fra le fratte Adesso ti spacco la Madonna mia Ti sto spaccando Tu non mi interessa No non ti dice Ho spaccato No le finestre Cosa pensi tu Ho spaccato una finestra Della casa di Gabriele Duniziani In sedia di vendetta Allora adesso Adesso sì 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 Allora adesso faccio così E poi faccio anche V Eccomi Eh Brutto schifoso Mi hai trovato Mi hai trovato Eh Duniziani veramente Una fatica assurda Fare questi video Con questa gentaglia Che Gitu batto Gitu batto Ultimo Ultimo video Ultima cosa Tu Fede vai Forza Adesso noi ci nascondiamo Per questa volta Cosa Abri cosa stai dicendo No 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 Niente 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 Sarà meglio Per questa volta però Duniziani Eh Per questa volta Mi nasconderò per davvero Restate con me Però mi raccomando Vediamo se mi trova Qualcuno Per davvero Oppure no Perché Dobbiamo vedere Se qualcuno Ci trova Oppure no Vai forza Non so dove nascondermi Vediamo Vediamo se Se Fede ci trova Oppure no Adesso io sono nascosto qui Tranquillo in silenzio Ah però sono stupido Perché Io non mi fido Di Denis Non mi fido No però ti dico la verità Adesso sono in un posto tranquillo Ah sì ok Poi certo Potrei in effetti Va bene va bene Quando mi rompo le scatole Potrei Iniziare a spostarmi Eh Io te lo dico Fede Dopotutto Dunis Si rompe Un po' le palle Però Intanto Sì 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 Vediamo un attimo Va bene Fatto 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 Pronti Pronti entrambi Sì sì Ah beh io pensavo Fosse ancora partito Intanto non è ancora partito Perfetto Ah mannaggia Alle vostre chiappette No Dunisieni Veramente io qua No ok Mi sono già rotto le palle No Per dire Adesso Fede Cercherò insieme a te Gabri Forza Perché qua Dunis non può stare Non può stare Cioè dai Scusate Vi pare che in un video Io sto per 30 minuti Fermo in un post Non è possibile Non è Dunisiani Cioè anche voi Secondo me vi annoiereste Un sacco a vedere Eh ma questa Qui arriva pure no Quindi Gabri Mi dispiace Adesso ti sto cercando No Per fare più bello E secondo me Gabri Visto che è un po' Un po' schifosetto eh Allora o è da questa parte Ma almeno non è Oppure È da quest'altra parte Dove sei nascosta Prima Fede eh Vero Gabri No No non sono lì Veramente Non sei lì E quindi se io andassi qua In questa casetta Non sei qua giusto Ah beh No Devo dire che mi hai stupito Gabri Eh sono nascosto bene Però non stai di nuovo parlando bene Cos'è successo Eh scusa 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 Eh esatto Adesso parlo bene Adesso parlo bene Perfetto Eh perché a volte ve lo dimenticate tutti un pochino eh Perché a volte Eh sì A volte sì Soprattutto quando c'è poca esperienza Ma tranquilli che tutti imparerete Adesso vedrete che imparerete il segreto del parlare bene Che Duny sconosce Esatto Imparerete Imparerete È solo questione di tempo E di Impareranno tutti Sì 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 Tutti quanti I I Come che si dice Ah chi è che c'è qua C'è Fede secondo me qua Tutti quanti i partecipanti Ma stai cercando Fede No io stavo cercando Gabri Cioè stavo cercando te Ma perché Ah Maria delle Rose Che rottura di scatole Comunque ti ho rotto Ti ho rotto davvero una finestra Gabri comunque Eh lo so Eh mamma mia Adesso Fede non parla perché ovviamente sei mutata Gabri tu adesso hai laggato come una scrofa Come Sveva Giusto per dire qualcosa Come Quindi mai più farlo Eh non lo sapevo Non me ne ero neanche accorto Ecco No Secondo me è colpa Diciamo del tuo wifi Chissà cosa ci avrai messo No Niente Non ci ho messo niente Cosa ci hai fatto con quel wifi Gabri Si sa bene Niente Niente eh Speriamo Veramente Non ci ho fatto niente Cosa allora cosa ti ho detto prima Devi parlare bene Mannaggia a te Scusa 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 Eh scusa scusa ma poi dopo non te lo ricordi Eh Eh allora ricordatelo e fai bene Va bene va bene Oh bene bene Quando ti sento così propositivo mi piaci Però poi ricordati mi raccomando Eh esatto Dove casi da 6 Allora Adesso io mi tippo da Gabri perché non è possibile No Ah dove che sei Ma scusa dove Dove è questo posto Era nella casa di Angelo e Chiara Che schifo Che schifo Fede hai capito No Non lo sapevi sto posto Denis No Cioè si lo sapevo ma Più che altro Non ci avrei mai pensato Vabbè allora Donizia ne direi che abbiamo finito questo video Io adesso vado a punire i miei due amici No ma come Succederà sempre così No scherzo Fede no perché Lebra Vabbè scherzo ti perdono anche a te Gabri Dammi un abbraccio Che schifo Puzzi vai No Vabbè ok però Ho apprezzato Comunque Fede non sta parlando Ho apprezzato che però cerchi di parlare bene Questo è molto buono da parte tua Grazie grazie Ma perché tu sei più alto di me Ok Ma come Quindi Fede mi sa che non può parlare Duniziani Siete arrivati fino a questo punto del video Eh Punto del video mi raccomando Scrivete Penna eh Avete capito La penna che usavano le muse di tanto tempo fa Milioni di anni fa Per fare cose che non si può dire Ma Però vabbè insomma avete Avete potuto già intuire insomma E niente Lasciate like mi raccomando Iscrivetevi A questo magico canale dunizianico Ed entrate nel pianeta dei duniziani Insieme a tutti quanti noi Eh mamma mia Andiamo verso l'infinito ed oltre Esatto Mi piace l'infinito ed oltre Perché miseria Questa poetitudine è bellissima E quindi noi duniziani ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao